Ciao ragazzi, sono Pokémon Collector e mi è arrivato un altro box. Ieri avevo detto che ne avevo due, in realtà me l'ho scordato, ma avevo preso un terzo dall'altro sito e mi è arrivato oggi, quindi niente, ero convinto fossero solo due, tanto meglio. Ovviamente il contenuto è sempre lo stesso, quindi in teoria la media dovrebbe essere una Shiny GX Asset, l'allenatore, che ovviamente dicendo così in subito qua non troverò assolutamente nulla. Qua dentro c'è il manuale solito con questo, questo e le varie carte, che lasciamo la prima parte. Qua abbiamo i pacchetti che sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, questo è piegatissimo. Poi abbiamo i divisori, che mi servono un sacco, infatti ne dovete andare altri, dadi, segnalini, carta promo stupenda che ora riguarderemo, carte energia che non ci servono a nulla e le bellissime bustine che teniamo un attimo fuori così ci fanno da sfondo. Ricomponiamo il tutto, questo qua, questo qua. Questo qua, questo dentro, e questo, come cavolo ho messo, l'orso cos'è, e questo qua. E lo mettiamo qua, ci accogliamo i pacchetti, la carta promo l'abbiamo già visto negli altri video, che è sempre spettacolare, e questo la mettiamo qua. Poi, i pacchetti li mettiamo qui, e oggi volevo richiamare la special guest dei primi video, visto che mi ha portato fortuna, che è, come sempre, lo Shiny GX PSA 10, e lo mettiamo qua, vediamo se ci porta fortuna questo giro, visto che ce ne serve. Partiamo subito, cosa c'è in pacchetti? No, sì, partiamo subito. Primo pacchetto, quello di Mew, anzi, partiamo da quello, anzi, partiamo da quello che era quello distrutto. Cioè distrutto, vedete che era tipo piegato, era messo sotto così, questo è un po' piegato. Primo pacchetto, si parte, e speriamo bene. Uno, due, tre, quattro. Come sempre ci abbiamo qua tutte le bustine pronte, e non si sta mai. Energia Folletto. Metapod. Suggerimenti Sabrina. Cermilion. Stario. Jigglypuff. Eccans. Geodude. Cubon. La reverse è Golem, Rara, Olo. Ok. E ospitalità di Erika. Quindi piegata e sfortunata. Altro pacchetto di Mew. Ma contatterei di trovare, mi trovo la Shining X, non vuoi dire una cavolata, ma dovrebbe essere quasi garantita. Non chiedo Chalizer Mewtwo. Cioè se ci fossero Chalizer Mewtwo, tanta roba. Ma ne basta una che mi manca. E ancora ne mancano un sacco, mi mancheranno tipo, me, una mentina sicuro. Energia. Trappola di Koga. Strategia di Elchisurge. Magmar. Jigglypuff. Stario. Eccans. Eevee. Pikachu. La reverse è Kangaskhan, Rara, Olo. Cioè Rara, Olo. Rara e reverse. Quindi due su due sono reverse. E Electrode. Boh, mi hanno dato quattro rare in due pacchetti, dai. Devo andare peggio. Pacchetto di Mewtwo. Se vedete cosa mi piacerebbe un sacco trovare, al di là dei soliti Chalizer, Mewtwo, Reshiram. Ma a Reshiram mi piace un sacco. C'è un Arturo che è una roba spettacolare. Energia Follette. Graveler. Farfetch. Palessa di Plumbeopoli. Psyduck. Magikarp. Stario. Voltorb. Pikachu. La reverse. Attenzione, c'è una Shiny ed è... Noibat. Che mi sa che già c'avevo. Però è proprio bellina. Vediamo che c'è dietro. Joltun. Rara nonolo. Noibat. Lo mettiamo accanto. C'è la risolta. Proseguiamo. Quarto pacchetto. E' tempo di trovare qualcosa, eh. Uno, due, tre, quattro... E si parte. Energia. Palessa di Plumbeopoli. Metapod. Esilo di Giovanni. Pikachu. Voltorb. Koffing. Cubon. Geodut. La reverse è... Oh! Attenzione, ci abbiamo la Shiny GX. Ed è... L'Ikan Rock. Porca miseria, ce l'ho. E vabbè. E dietro c'è Jesse and James. Ma perché? C'è andata bene solo con l'Electrode. Stupenda questa qua, eh. Però purtroppo già ce l'ho. Molto bello. Dopo lo impacchetto. Non preoccupate che non le lascio così. Senza niente. Quindi abbiamo già trovato in uno, due, tre, quattro, cinque, sei. In quattro pacchetti una Shiny e una Shiny GX. Vediamo cosa ci riserva. Allora. Abbiamo. Energia. Magmar. Tenaccia di Brokk. Tenaccia di Brokk. Censei. Ekans. Paras. Caterpie. Charmander. Clefairy. La reverse è Geodut. E infine... Lapras. Ok. Siamo a metà. Quindi, sesto pacchetto. Energia. Graveler. Farfetch. Palestra di Celestopoli. Paras. Charmander. Clefairy. Slowpoke. Magikarp. La reverse. E Charmander. E... Attenzione. Non è vero. Un altro trio Hyper. Ma basta. Quanti ne ho? Undici. Cosa vuoi è l'undicesimo trio Hyper che ho? Cioè, mi rendete conto? Undici trio Hyper. Vedete che ce le ho più delle comuni? Vabbè. È bella la mettiamo qua. Insieme alle Compari. Settimo pacchetto. Undici trio Hyper. È la prima volta che odio un Hyper. Ero tanto contento alla prima. Energia. Tenacia di Brock. Shytar. Jinx. Cubone. Magikarp. Geodude. Clefairy. Eevee. La reverse. E Psyduck. E infine. Butterfree. Rara. Nonolo. Carina dai. Sottavo pacchetto. Dicendo settimo. Spacchiamo tutto. Ma se... Uno, due, tre, quattro. Avanti. Energia. Determinazione di Misty. Shytar. Jynx. Levy. Clefairy. Psyduck. Psyduck. Eccans. Caterpie. La reverse. Attenzione. Un'altra shiny. Ed è... Swablu. Un altro Swablu. Ah, questo qua ne ho un tot. Infine, ultimo tentativo di Blaine. Andiamo a mettere anche lei qua. Qui siamo a due shiny. Una shiny GX e il trio hyper. Non abbiamo trovato neanche una GX per il momento. Un bel Mewtwo GX. Vedi tanto perro visto che mi manca. Un Wigglytuff che ancora incredibilmente mi manca. Non è. Int. Uno, due, tre, quattro. O sarà qua? Energia. Suggerimenti di Sabrina. Charmeleon. Shensi. Pikachu. Charmander. Voltorb. Koffing. Eccans. La reverse. E Metapod. E infine... Allenamento di Brock. Davvero bella. Mi piacciono un sacco gli allenamenti oro che hanno fatto. Che sono questo. Che riguardiamo un attimo. Poi la terminazione di Misty. E Jesse and James. Lo sono fatte davvero bene. Mi piacciono molto. Ultimo pacchetto. Uno, due, tre, quattro. Vediamo che si trova qua. Energia. Cerchiamo di finire con almeno una Jinx. Jinx. Una Jinx. Adetta al centro Pokémon. Metapod. Eccans. Psyduck. Stario. Clefairy. Slopok. La reverse è Eevee. E ultima carta della sbustata. Speriamo sia qualcosa di buono. Ed è... Bam! Oh! Wigglytuff. Mi mancava. Oh! Era uno di quelli che mi mancava. Quindi abbiamo completato la grande. Quindi mi sa che mi manca solo il mio 2GX. Del set, diciamo, del 68. Poi, beh, delle Shiny. Non c'è ne manca un botto di roba. Comunque, riguardiamo un attimo quello che abbiamo trovato e dopo un busto il tutto. Abbiamo trovato l'ennesimo Trio Hyper. Suablu Shiny. Licaroc Shiny GX. Strafiero. Guardate che bello che è. Noibat Shiny. E ultima, ma non ultima, un Wigglytuff GX che mi mancava. Quindi tante, tanta roba. E guardiamo anche il mosaico. Spettacolare. Davvero spettacolare. E guardiamo già che ci siamo anche il Charizard. Che non l'abbiamo trovato, ma ci accontentiamo di questo. Prima o poi lo troverò con il Charizard l'italiano. Devo ancora arrivare un sacco di materiale. Ah, vi dico che ci abbiamo ancora. Secondo me ho 50-60 pacchetti da aprire. Quindi vediamo cosa troviamo. In ogni caso, grazie per aver guardato come sempre. Se avete qualsiasi domanda, dubbio, qualsiasi cosa, contattatemi. Io vi rispondo. Sia nei commenti qua su YouTube che sul link di Instagram che trovate nella descrizione. Mettete un vi piace se vi è piaciuto il video. Seguitemi se ancora non lo state facendo, volete vedere altri video. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!